allora io inizierei ora con l'introdurre il primo relatore che è il dottor palo baron è psicoterapeuta oltre che medico ed è esperto in omeopatia in fitoterapia e agopuntura lavora nella città di padova come libero professionista e ci porterà un'interessantissima relazione sulle patologie emergenti della sfera genitori in aria allargando il discorso della classica psicosomatica in realtà ci aspettiamo da lui un intervento mirabile perché il suo cavallo di battaglia l'aspetto psicologico ma ci aprirà anche una prospettiva nuova su un aspetto che è quello del microbiota ora però chiamo proprio paolo per lasciargli la parola eccoci qua buongiorno ti lascio e rimango in ascolto ti ringrazio molto allora cominciamo aspettate un attimo che riesca a allora bene buongiorno a tutti io ringrazio le aziende che hanno permesso a me di essere qui questa mattina per sviluppare un tema decisamente interessante e da un titolo anche abbastanza abbastanza complesso e cioè patologie emergenti della sfera genitori in aria della psiche al soma nuovi approcci e disturbi ginecologici ci piace anche sottolineare che siamo nel virtual best western globus hotel e porgiamo i nostri saluti alla simonetta vespucci che è la più è la donna più bella del rinascimento modella di sandro botticelli per la nascita di venere per affrontare questo questo argomento non possiamo fare altro che perché non sono un attimo ecco scusate un attimo allora per affrontare questo argomento diciamo che negli ultimi anni ci sono state delle scoperte una quantità di scoperte che ci consegnano di anzi ti obbligano ad avere dei nuovi approcci o comunque a valutare il disturbo ginecologico non tanto laddove si presenta ma di inserirlo all'interno di un insieme che è il nostro il nostro corpo nella 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 sua nella sua totalità la prima cosa importante che è accaduta in tutti questi anni so che mi ripeto e che ripeto molto di queste cose ma è imprescindibile parlare del microbiota intestinale e di quanto questo possa rappresentare veramente una rivoluzione nella nostra modalità di non solo di pensare ma anche di capire anche di poter intervenire il nostro microbiota è così importante che a parte la parla sfera uroginecologica è importante perché che costruisce uno sviluppo armonico per noi l'equilibrio la salute del nostro corpo e soprattutto a grandi capacità di sviluppare ampie parti del nostro cervello di portarle a maturazione addirittura è coinvolto in cambiamenti psicologici e stati infiammatori o addirittura in alterazioni metaboliche è chiaro quindi che il microbiota intestinale non svolge solo esclusivamente la situazione in loco ma è in grado di determinare uno sviluppo generale armonico dello sviluppo della persona stessa sono nostri commensali dal latino commensa che significa mangiare insieme che cosa succede nel rapporto tra noi e loro che noi semplicemente diamo loro un'adeguata quantità di cibo per tutta la nostra vita e loro in cambio ricevendo questo cibo sono molto buoni con noi danno fanno una serie di azioni e producono una serie di sostanze che sono straordinariamente importanti per noi hanno infatti delle funzioni metaboliche producono vitamine aminoacidi acidi grazie a catena corta che sono importantissime ma non abbiamo qui il momento per per approfondirli neuromediatori batteri o cine ma una parte protettiva con le batteri o cine con la resistenza alla colonizzazione dei patogeni e soprattutto una delle grandi capacità una delle grandi doti che al microbiota intestinale è quello di allenare e sviluppare il nostro sistema immunitario di cui ricordiamo 90 per cento è stipato all'interno dell'intestino oltre ad avere anche un ruolo di tipo strutturale noi stessi la cioè la nostra cellula le cellule di cui noi siamo fatti derivano di fatto da uno di loro perché da una cellula primordiale si è inserito un mitocondrio che è un batterio anzi un super batterio perché come sapete ha una grandissima capacità di sviluppare ATP e il cloroplasto l'insieme di questi due batteri con una cellula primordiale ha fatto sì che da quel momento in poi ci fosse la cellula eucariota che è la cellula di cui noi siamo costituiti arriviamo al 2007 questo è un progetto straordinario nella sua complessità e nella sua coraggio anche l'america ha investito in questo progetto circa 173 milioni di dollari perché voleva sapere chi fossero quali fossero chi fossero e addirittura il genoma di tutti i germi che potrebbero essere presenti all'interno del nostro corpo quindi hanno scelto 300 persone sane tra i 18 ai 40 anni e di queste sono andati a prelevare almeno cinque o più tamponi in vari luoghi del del corpo più più tamponi nella bocca sulla pelle sulle orecchie dietro le orecchie e così via in modo tale da riuscire a fare di queste 300 persone ricavare qualcosa come 11 mila campioni che sono stati completamente analizzati caratterizzati e i cui batteri presenti sono stati analizzati per quanto riguarda il loro la loro composizione del genetico questa cosa sta andando avanti naturalmente addirittura la dottoressa maria gloria dominia sbello che fa parte sempre del progetto del microbioma umano ha iniziato da qualche da pochi anni a colonizzare il corpo dei bambini nati da comparto cesareo con una tecnica molto molto semplice cioè un'ora prima del taglio cesareo e la dottoressa fa infilare una garza all'interno della della vagina della madre la lascia per circa un'ora e al momento in cui si verifica l'estrazione del bambino beh questa garza viene passata dalla dottoressa all'interno della bocca del bambino all'interno del sul sul viso e sull'intero corpo quindi questa è la prima colonizzazione che il bambino riceve di microbiota che appartiene alla mamma il secondo aspetto che noi dobbiamo prendere in considerazione che anche quello più complesso se se vogliamo è il concetto della psiche al soma ovvero la comunicazione tra intestino e cervello detta così è sì apparentemente semplice ma il problema di capire come accade e per capire esattamente come questa comunicazione possa accadere ma soprattutto quali sono le vie le strade attraverso il quale questo fenomeno straordinario accade non possiamo far altro che prendere che fare riferimento a tre precisi ambiti che sono le teorie di michael gerson le vie di comunicazione biochimiche ovvero l'endocrinologia batterica e le vie di comunicazione somatiche ovvero le vie del nervo vago non spaventatevi saranno solo poche diapositive siamo nel 1998 questo signore e michael gerson e lui coni al termine di secondo cervello oltretutto pubblica un libro con lo stesso nome che è un diventa subito un best seller perché per la prima volta tutto ciò che noi avevamo sentore che accadesse dentro il nostro dentro la nostra pancia beh lui dice che effettivamente questa pancia in realtà non è solo pancia ma è un cervello è vero e proprio che comunica con il primo anzi tutti e due comunicano l'uno con l'altro e sicuramente in microbiota può comunicare direttamente con il network nervoso che circonda l'intero intestino questo è l'articolo originale rimarrà a voi come documento e quindi lo andrete a leggere lo andrete ad approfondire la cosa interessante importante è che nonostante il fatto che il l'intestino sia autonomo nel senso che autonomo significa che lui lavora nonostante ciò che voi pensiate o ciò che voi potete fare quindi è decisamente molto ma molto autonomo rispetto al primo cervello ma pur tuttavia questo secondo cervello che il cervello intestinale mantiene una comunicazione piuttosto costante con il primo cervello gran parte di questa conversazione riguarda il microbiota sorprendentemente cioè ciò che noi abbiamo capito negli ultimi anni è che i nostri microbi cioè i microbi che sono contenuti all'interno del nostro intestino possono parlare con entrambi i cervelli usando sostanze chimiche quindi la modalità con cui ci parliamo avviene attraverso fondamentalmente delle sostanze chimiche che sono neurotrasmettitori ormoni acidi grassi metaboliti e citochine quindi le vie attraverso le quali vi è la possibilità di comunicare tra una parte e l'altra del nostro corpo passa attraverso delle sostanze che costituiscono la base di quella che viene chiamata endocrinologia batterica scienza non più tanto giovane e che rappresenta l'intersezione tra i campi della microbiologia e della neurobiologia ed è definita come lo studio della capacità da parte dei microrganismi di produrre e poi riconoscere gli stessi neuromediatori prodotti dall'ospite quindi io faccio le stesse cose che fai tu e quindi riconosco gli stessi segnali che fai tu e viceversa sostanzialmente questa branca interessantissima la dobbiamo a mark light ormai sono 28 anni sono passati da quando lui ha fondato questo campo di sviluppo di scienza chiamandolo proprio indocrinologia batterica questo nel 1992 quindi quello di cui noi dobbiamo avere sempre in mente è sempre presente è che questi composti che sono chiamati neurotrasmettitori sono stati dimostrati essere presenti in qualunque tipo di sistema di forma di vita addirittura anche nei sistemi privi di sistema nervoso e perfino negli organi negli organismi unicellulari oggi cioè abbiamo sempre più prove che i neurotrasmettitori che sono le sostanze che partecipano alla neurotrasmissione sinaptica sono sostanze multifunzionali che partecipano a processi di sviluppo di microrganismi piante ed animali tutti questi lavori li dobbiamo fondamentalmente a questa scienziata russa che si chiama riuscina composti simili presenti negli organismi viventi includono quindi l'aceticolina la dopamina la norepinefrina l'epinefrina la serotonina e l'istamina tutti noti collettivamente con nome di tre o non neurotrasmettitori e queste sostanze questi neurotrasmettitori sono stati trovati non solo negli animali ma sono stati trovati ampiamente anche nelle piante e addirittura nei micro organismi non solo ma abbiamo studi molto interessanti e molto approfonditi che hanno determinato il fatto che i lattobacilli e i bifidi batteri producono GABA e acetilcolina le scherichia il bacillus e il saccharomyces producono norepinefrina così come il candida stretto coccus e le scherichia enterococcus producono serotonina e bacillus e la serrazia producono dopamina vedete voi quindi quanto la produzione la secrezione di queste sostanze da parte dei nostri batteri intestinali possano a fine influire anche sulla qualità del nostro sentito del nostro sentire quindi qualsiasi organo può produrre organismo scusate qualsiasi organismo può produrre e rilasciare neurotraspettitori e a causa di queste secrezioni l'ambiente vive influenzato influenza scusate ogni altro ambiente determinando reazioni e relazioni tra organismi e quindi queste possono avere tra microorganismo e microorganismo tra microorganismo e piante tra microorganismi animali tra pianta e pianta pianta animali e animale animali sostanzialmente in ultima analisi siamo noi che abbiamo mutuato i sistemi di comunicazione dei batteri cioè abbiamo trovato abbiamo scoperto che loro hanno messo a punto tantissimo tantissimo tempo fa dei sistemi di comunicazione talmente raffinati che non potevamo fare altro che acquisirli e inglobarli nei nostri sistemi di trasmissione delle informazioni poi c'è quest'altro pezzo da 90 che sono le vie del nervo vago non spaventatevi della complessità di questa diapositiva ma sostanzialmente quello che c'è da sapere è che la connessione tra intestino e sistema nervoso passa attraverso da una parte il sistema vagale e poi il parasimpatico sacrale dall'altro attraverso i nervi toraco lombari spinali e toraco sacrali sempre spinali ciascuna di queste branche include una innervazione sia afferente che quindi sensoriale sia una innervazione efferente che quindi motoria questi ultimi cioè i percorsi efferenti contengono dei neuroni preenterici che vanno a terminare all'interno dei gangli enterici e controllano pertanto o modificano pertanto le attività dei neuroni enterici quindi esiste una comunicazione bidirezionale microbi intestinali al cervello passano e comunicano attraverso queste due divisioni una che va e una che viene ed è attraverso questa rete di comunicazioni che segnali che vengono prodotti dal cervello possono scendendo influenzare le modalità sia motoriche e sensoriali che secretori dell'intestino e al contrario i messaggi viscerali che partono dall'intestino possono risalire attraverso le solite efferenze fino a livello centrale e modificare le funzioni cerebrali inoltre e questa è una cosa decisamente interessante come poi vedremo il nervo vago innerva tessuti noti per essere e per partecipare alle reazioni immunitarie come il fegato il timo il polmone il tratto gastro intestinale e cioè tranchi tronchi o rami del vago sono spesso associati a linfonodi che drenano le regioni in cui si verifica l'attivazione immunitaria la rivelevanza funzionale dell'innervazione vagale del tesuto immunitario è stata evidenziata dalle identificazioni di un circuito neurale che comporta la risposta infiammatoria in maniera riflessa questo cosa significa questo ci suggerisce che il nervo vago percepisce addirittura l'infiammazione è in grado di percepire addirittura l'infiammazione e quando questo avviene invia segnali afferenti al cervello attivando in questo modo una risposta efferente da parte del sistema nervoso centrale questo è dal per la parte del sistema vago vagale dall'altra parte cioè prendendo in considerazione la parte dentro l'intestino noi abbiamo contenuto intestinale cioè microbiota intestinale abbiamo evidenti prove che il microbiota intestinale può attivare esso stesso il nervo vago e che tale attivazione svolge un ruolo fondamentale nella mediazione degli effetti sul cervello e sul comportamento sembra sostanzialmente che il nervo vago riesca a differenziare i batteri potenzialmente patogeni dai batteri non patogeni in ciò potendo creare una reazione e indurre effetti ansiogeni nel caso in cui si abbia a che fare con agenti patogeni o ansiolitici nel caso in cui si abbia a che fare con con batteri non pericolosi ma anzi consoni al nostro al nostro intestino arriviamo a quest'altro argomento molto interessante noi sappiamo che la gran parte degli ormoni degli estrogeni sono fatti non certo all'interno del microbiota ma sono fatti in altre strutture del nostro corpo beh pur tuttavia esiste una relazione che può essere anche straordinariamente importante tra gli estrogeni e il microbiota intestinale questo naturalmente la premessa è che tutti noi riconosciamo che gli estrogeni svolgono un ruolo assolutamente importante significativo nel mantenimento degli stati degli stati di salute così come possono essi stessi determinare degli stati degli stati patologici un po meno però è noto il fatto che il microbiota intestinale può avere un impatto significativo sui livelli degli estrogeni attraverso una sostanza molto importante che un enzima che è un abeto beta glucoronidasi che è una sostanza che è presente sull'orletto a spazzola dell'intestino e che altro non fa che deconiugare gli estrogeni e renderli quindi liberi di poter agire sui loro recettori sapendo che è solo l'estrogeno libero che è biologicamente metabolicamente attivo questo è un bellissimo lavoro da cui sono tratte queste informazioni del 2017 e di bacchera in cui ci fa ma studiato in modo estensivo quelli che sono i rapporti quindi da una parte del contenuto intestinale e dall'altra quelle che sono quello che è la possibilità di una disfunzione di quello che lui chiama l'estromolome e come voi potete vedere l'interazione fra queste due situazioni può determinare una quantità e una serie di di patologie dico io a cascata che hanno a che fare con l'endometriosi con l'ovaio più policistico con iperplasia con obesità con sindrome metaboliche con disturbi cardiovascolari addirittura con una disfunzione cerebrale passando addirittura attraverso il tumore in che modo succede questo le alterazioni della diversità del microbiota intestinale influiscono sull'attività della beta glucuronidasi essendo l'enzima prodotto dal latto bacillo reuteri e chiaro quindi che se noi abbiamo tanto lo reuteri c'è tanto attività enzimatica e quindi avremo una sovraespressione di sempre di questo tipo una sovraespressione alla produzione di estrogeni se invece beta glucuronidasi cioè l'atto bacillo reuteri sarà insufficiente è evidente che avremo l'effetto opposto quindi nel momento in cui una disbiosi c'è un'alterazione della composizione del microbiota intestinale ha come conseguenza una riduzione del reuteri c'è una diminuzione dell'attività enzimatica e possono insorgere patologie che si basano sulla poca e scarsa quantità di estrogeni presenti in circolo come l'obesità sindrome metabolica malattie cardiovascolari declino cognitivo come pure nel momento in cui c'è un aumento della presenza di reuteri all'interno dell'intestino c'è un aumento dell'attività della beta glucuronidasi e quindi noi possiamo andare verso una situazione di iper estrogenismo relativo e andare nella direzione di endometriosi e addirittura del cancro questa è abbastanza complessa non perdiamo tempo a leggerla ma sicuramente la leggerete con grandissima attenzione negli appunti che vi saranno distribuiti passiamo in situazioni un pochettino più tranquille è sempre botticelli che ci accompagna e introduciamo anche un'altra premessa fondamentale per il per il tema di oggi sono nata macina perché questo è il mio destino detta così è abbastanza sorprendente lo sappiamo tutti ma è una verità assolutamente incontrovertibile io sono acida rimarrò d'acida per mantenere la mia salute e questo fa parte del sistema di protezione della vagina sostanzialmente quindi l'equilibrio dell'ecosistema vaginale costituisce di fatto il principale fattore di difesa e di protezione contro le infezioni e questo ecosistema viene mantenuto tale grazie ai batteri presenti all'interno dell'ambiente vaginale bacilli che hanno determinati compiti che sono quelli di utilizzare di sfruttare la citolisi delle cellule epiteliali per fare delle cose che poi ora vediamo nella donna in età fertile nell'epitelio nella mucosa vaginale sotto lo stimolo estrogenico queste cellule raccolgono molto glicogeno ad un certo punto le membrane si rompono c'è un processo di citolisi questo glicogeno viene liberato all'interno dello spazio interno vaginale questo glicogeno viene scisso in glucosio e ad opera di enzimi cellulari e su questo glucosio si attaccano ovviamente in modo immediato i lattobacilli fermentanti notti anche come bacilli di d'orderly i quali cominciano niente fanno il loro compito è quello di fermentare il glucosio e in questo processo di fermentazione viene prodotto l'acido lattico l'acido lattico ha come conseguenza un abbassamento del ph vaginale che si tara attraverso i sui livelli di 3 8 4 4 4 e mezzo non di più cioè tendenzialmente verso i quattro e quindi è l'ambiente acido vaginale che mantiene le obbiosi vaginale e che sviluppa tutte quelle situazioni di difesa nei confronti di tutti gli agenti che possono determinare una luce una sua possibile cambiamento quindi è un sistema l'attito lattico centrico dove tutta l'acidità è legata al lavoro dei batteri quindi vediamo a destra sono gli estrogeni gli estrogeni sono contenuti nelle 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 cellule della mucosa vaginale il glicogeno viene per citolisi e all'interno dello spazio vaginale ci sono i lattobacilli degradazione del glucosio e con produzione di acido lattico dai par da parte quindi dei lattobacilli il sistema di produzione di protezione scusate non sono solo questi perché i lattobacilli tutti insieme non solo producono l'acido lattico ma ha prodotto ma producono anche per ossido di idrogeno e batteri acida non indifferente producono anche delle batterie ocine specifico e poi dei bio surf a tanti che fanno da protezione di sostanzialmente di barriera questo è il dottor d'oderland ginecologo tedesco 1860 1941 che nel momento in cui vede queste cose chiama con il suo nome quello che ha scoperto grazie al microscopio dicendo che da oggi in poi la flora batterica si chiamerà con il suo nome e ma quali sono questi questi lattobacilli ci sono tanti ce ne sono pochi quali sono i più importanti entriamo in un qualcosa di molto particolare che la squadra dei quattro moschettieri sì è vero all'interno della vagina non ci sono solamente quattro i quattro moschettieri che poi incontreremo ce ne sono molti ma molti ma molti di più ma questi quattro da soli la fanno da padrone e quali sono questi quattro moschettieri beh il crispatus il gaseri lo genseni e l'iners questi quattro da soli fanno la stragrande maggioranza della da un punto di vista numerico la stragrande maggioranza di tutti i germi presenti all'interno della della vagina e vediamo qui che il crispatus rappresenta la classe 1 poi c'è la classe 2 con il gaseri la classe 4 con genseni la classe 3 con l'iners nella classe 4 ci sono tutti gli altri germi diversi che sono come vedete sulla destra dei generi più più strani e incredibili ma fondamentalmente queste questa classificazione più o meno viene rispettata con ovviamente con delle ampie variazioni da un'etnia e l'altra nelle donne asiatiche piuttosto che bianche nere o ispaniche sostanzialmente quindi per concludere e terminare questa parte di protezione che la vagina ha messo in estra è se siamo i neobiosi significa che il ph è acido intanto che il ph è acido noi siamo protette noi siamo a posto difficilmente noi riusciremo ad a farla ammalare il problema è che c'è sempre qualche cosa a qualcuno che cerca di cambiare ma ci sono comunque dei sistemi di protezione come facciamo a sapere qual è il ph basta solo una striscia per sapere quale in che salute siamo queste sono le linee guida dell'ampini e del gliss del 2009 beh possiamo fare una cosa molto semplice e cominciare a pensare che non sarà proprio una cosa precisissima precisissima perché non è che con un ph 4 e mezzo noi sappiamo se la cosa è normale oppure potrebbe esserci una candidosi anche se se noi mettiamo il ph 4 e 5 ma valutiamo anche la qualità dei secreti beh allora possiamo pensare che quel 4 ph quel 4,5 di ph potrebbe essere normale oppure una candidosi nel momento in cui le secrezioni sono diverse questo è direi che rappresenta una cosa molto molto semplice quasi quasi banale ogni donna può misurare il proprio ph della parete e vaginale e conoscere all'istante lo stato di salute della propria della propria vagina e qui c'è il cammino della patobiosi e cioè il crispatus è il germe più potente quello che produce fermenta e di più il glicogene quindi è quello che manda il sistema ad avere un ph sempre più basso e lo mantiene più basso nel momento in cui iniziano dei problemi e il crispatus non è sufficiente arrivano gli altri due moschetteri che sono il gaseri e il genseri e con questi lavorando insieme riescono a mantenere anche loro sul 4 e 1 4 e 5 sbavano verso l'alto ma insomma riescono a tenere ancora il ph a livelli compatibili se però c'è una vera e propria disbiosi allora neanche loro ce la fanno arriva l'iners e l'iners riesce a mantenere un ph tra il 4 e 5 e 5 ma se anche questo non ce la fa è chiaro che ph va su oltre i 5 e a quel punto non esiste più sistema di difesa vaginale può succedere una cosa particolare nel senso che le patologie che sono sostenute dalla candida determinano un'acidità nella vagina quindi può succedere alle volte che siccome mantenere l'acidità è biologicamente importante l'organismo possa approfittare o possa o in qualche modo decidere che alle volte è meglio avere una candida perché la candida riabbassa il sistema il sistema del ph e soprattutto è in grado di costruire una sorta di di catena di palizzata che permette di non fare entrare nuovi soggetti all'interno della vagina e arriviamo alle vagine vere e proprie alla virginity scusate vere e proprie che rappresentano indubbiamente un problema rilevante sia per numero di casi sia perché questa è la prima causa di visita ginecologica possono essere la genita possono avere dei risvolti psicologici economici anche sociali decisamente importanti e significativi la vaccinità è sostanzialmente una condizione infiammatoria a carico della vagina a volte stessa la vulva e che è caratterizzata principalmente da pruritto bruciore perdite maleodoranti dolore o irritazione durante i rapporti sessuali minzione dolorosa e accompagnati alle volte da leggeri sanguinamenti come facciamo a distinguere le tipologie di di vaginiti da da un germe all'altro ma è relativamente semplice nel senso che nelle vaginiti batteriche a parte i sintomi che sono comuni a tutte ci sono perdite le perdite sono maleodoranti ma l'aspetto è bianco grigiastro e l'odore può essere quello del pesce a destra i germi che sono essere possono essere compatibili con vaginiti batteriche tutti questi oppure abbiamo una vaginite micotica ci sono sempre il prurito vulvo vaginale ma in questo caso le perdite sono secrezioni bianche consistenti simile alla ricotta per arrivare alle sintomi della vaginite da tricomonas in cui ciò che contraddistingue in modo importante e significativo questo tipo di vaginite è sicuramente rappresentante della scrizione giaglio via verdastra e soprattutto con un odore piuttosto pungente e con bruciori vaginali piuttosto piuttosto importanti ci sono altri quadri di che non sono delle vere e proprie vaginiti infettive ma è uno è un quadro di che viene definito come vaginosi e che ne vediamo sempre più spesso in cui non sappiamo per quale motivo c'è una deplazione da parte della popolazione normale di lactobacilli arriva una flora batterica mista in questo caso quasi sempre abbiamo una sovraespressione della gardenella vaginalis quindi nei casi di vaginosi andiamo sempre a cercare con un tampone la gardenella per vedere se lei è presente quindi poi la trattiamo nei modi che vedremo oppure questa vaginità aerobia che è un'infiammazione c'è una depressione anche qui nel l'atto bacillare ma c'è un intenso richiamo leucocitario con presente addirittura di leucociti tossici e il ph fa ancora una volta di rimente il ph supera addirittura il 6 e veniamo alla diagnosi delle vaginiti l'approccio diagnostico è naturalmente attraverso i sintomi la clinica il ph il tampone l'esame microscopico a fresco e l'esame microscopico dopo colorazione quindi teoricamente noi dovremmo fare ciascuna di queste cose di queste cose qui spendiamo due parole solamente per verificare come in america hanno sviluppato le linee guida e cioè utilizzando il ph da una parte facendo uno striscio guardando un vetrino dopo uno striscio a fresco dopo colorazione oppure mettendo gli striscini lo striscio in un coltura e andando a vedere che cosa che cosa nasce questo sostanzialmente sono le modalità con cui con cui vengono fatte la diagnosi di vaginite eccole qua e andiamo ai nuovi approcci e disturbi ginecologici che era l'altro dato piuttosto importante significativo e forse un po complesso della relazione beh direi che alla luce di quanto abbiamo visto nei problemi urogenitali è necessario comprendere da una parte la fisiologia dell'inervazione dall'altra la presenza del microbiota intestinale e di quello vaginale con tutte le cose che abbiamo visto prima dobbiamo ovviamente competere sulla formazione del biofilm se c'è un biofilm sano è difficile che qualcuno estraneo entri dentro se invece il biofilm non è sano non è molto sano o è debole è chiaro che può essere rotto in qualunque momento e soprattutto utilizzare schemi di cura razionale ed integrale ed integrati scusi fra intestino e mondo mondo pelvico ricordando sempre il concetto del mantenimento come caposaldo del ph acido vaginale una cosa importante ricollegandoci al nervo vago che è stata dimostrata che l'attività del nervo del nervo vago ha una capacità molto importante da un punto di vista infiammatorio questo va detto e va detto in modo molto importante e significativo e molti degli effetti che noi otteniamo sul microbiota in realtà sono la conseguenza di una attivazione di un'attivazione vagale e non ricordiamoci questo bellissimo articolo comparison scientific america nel 2015 che dimostra totalmente completamente la potenza e l'efficacia di una stimolazione vagale ancorché questa cruenta ma vi sono anche delle tecniche non cruente in cui l'attivazione del nervo vago conduce lo stimolo fino al ganglio celiaco dal ganglio celiaco prende la strada del nervo splandico questo impulso arriva alla minza dove c'è un rilascio di norepinefrina e un rilascio di acetilcolina dalle cellule t e le cellule t inibiscono in questo modo il rilascio di tnf alfa e di interleuchina 1 da parte di macrofagi quindi la stimolazione del nervo vago ha in ultima analisi come conseguenza importante e significativa la riduzione degli elementi che comportano l'attivazione dell'infiammazione cronica e per un parallele delle pelvi che apparentemente un mondo a sé ma collegato noi vediamo qual è la stretta aderenza dei vari organi di cui stiamo parlando l'ano la vagina la vescica si stendono in pochi centimetri l'altra cosa importante è l'inervazione che loro hanno sono innervati dal plesso sacrale ma soprattutto la parte genitale e la pariote urologica e in data dalla pari simpatico sacrale che non ha nulla a che vedere con il sistema con il nervo vago beh questa parte della delle pelvi cioè il plesso sacrale noi possiamo utilizzarlo in modo molto raffinato in modo cruente o non cruente attraverso una neuromodulazione o la stimolazione del presso sacrale ottenendo in cambio degli interessanti risultati per non dire che cosa facevano 3500 anni fa gli antichi egizi abbiamo questo il papiro di eber del 1552 conservato nella biblioteca di lipsia ed è praticamente il primo trattato di patologia medica serio ben fatto ben costruito e guardate cosa facevano gli egiziani egiziani avevano imparato dal libis che ha un bacco molto lungo a pulirsi a pulirsi l'interiore diciamo a pulirsi l'intestino e quindi loro hanno copiato lo hanno addirittura fatto fatto dei fratto dio e hanno copiato dal libis la necessità di fare pulizia dei loro intestini attraverso l'utilizzo di corni o di canne di di papiro ma questo è il trattamento delle infezioni che facevano loro trattavano ad esempio le vaginiti con il dattero fresco con un duento chiaro con le foglie di acacia con le carrube con il latte d'asina e le cistiti con le tisane di ortica con le tisane di equiseto oppure con l'utilizzo di agrimonia e sedano che fare di più quello che possiamo fare di più al giorno d'oggi è certamente verificare la sensibilità al glutine e all'atosio questo potrebbe comportare se positivo una e se è tolto e eliminato una decisa riduzione delle dell'ambiente infiammatorio a livello intestinale usare l'acto bacilli specifici tra i coqui di quei quattro di quei quattro moschettieri che abbiamo parlato prima aumentare la protezione con la vitamina c la vitamina d con l'acido di aro ironico con lo zinco e poi abbiamo una quantità di fitoterapici veramente infinita in cui nell'ultima parte di questa mattinata saremo alietati dalla dottoressa mauro con questo terminato io ringrazio un'altra volta sandro botticelli e simonetta vespucci e ne è stata la modella e vi ringrazio per l'attenzione